Peccato chiudere così. Sì è un peccato, è un peccato vedere 275 tifosi che sono arrivati fino qui e purtroppo avere questa conclusione. La conclusione è ancora più brutta perché alla fine sì sono stati gli applausi, però c'è stato anche un po' di distacco. Quel distacco che ultimamente sembrava quasi essere riencollato, però è andata così. Ti chiedo un'ultima cosa Max, tu che vivi il Pescara da tanti anni, secondo te cosa è mancato in questa stagione? Secondo me è mancato molto probabilmente una figura leadership lì in mezzo al campo, però io faccio il fotografo, non faccio un altro mestiere. Però è anche vero in partite come oggi forse qualcuno di più caratura, qualche più attaccato poteva dare quel qualcosina in più, almeno credo.